Noage nasce dall'idea di voler integrare il prodotto all'interno dell'architettura. È un prodotto che si installa sulla parete e può essere ricoperto con cartongesso, quindi con la parete stessa, per avere alla fine l'effetto che si ha sulla parete. Si può dare la stessa finitura, lo stesso colore che si ha sulla parete, o addirittura la stessa decorazione fatta di piastrelle o di mosaici che si hanno sulla parete si può avere sul prodotto. In questo modo si crea un'integrazione totale. Questo dà la possibilità all'utente di mettere le proprie emozioni sul prodotto. Quindi un design molto semplice e curato in ogni dettaglio, fa sì che il prodotto sembra veramente che ci sia stato un taglio sul muro e che uno avesse tirato il muro fuori, tirando fuori la cappa dal muro. Il controllo del prodotto è garantito da un comando rotativo elettronico che ne consente il controllo senza dover guardare, quindi molta ergonomia. Leggermente curva per garantire anche l'ergonomia durante la fase di cottura per evitare di sbatterci accidentalmente. Il prodotto si installa sia in questo modo con il cartongesso o esiste una versione già con un pannello, un pannello preverniciato che può essere poi dipinto a sua volta del colore che si preferisce. In quest'altro caso si può creare anche un contrasto di colori. Una cappa che anche dal punto di vista tecnologico è molto avanzata perché ha un'aspirazione che garantisce il ricircolo dell'aria in modo continuativo e in modo molto efficiente. Filtri in poliuretano che danno un'efficienza di filtraggio del 98%. La cappa può essere installata essenzialmente in modalità filtrante quindi l'aria viene filtrata dal sistema di filtraggio e reimmessa nell'ambiente o con una rotazione del motore può essere addirittura installata in aspirante utilizzando la back aspiration, quindi utilizzando la parte posteriore della cappa per far sì che l'aria venga espulsa all'esterno dell'ambiente. Grazie per la visione! Grazie per la visione!